intendo dove siamo arrivati con il racconto di com'è Pioltello qui stai dicendo che a Pioltello c'è tutto il pianeta si, più o meno si se Pioltello fosse un frutto io penso che non esista un bambino o una bambina esiste ciascun bambino non esiste un paese e allora un mondo? e allora il mondo grazie